Un saluto e bentornati dal Centro Meteo Italiano. Il vasto campo di bassa pressione che ha determinato condizioni di maltempo anche intenso nelle ultime giornate sull'Europa centro-occidentale, lascia il posto ad una decisa rimonta anticiclonica che lambisce soltanto la nostra penisola. Infiltrazioni di massi di aria più fresche dai quadranti settentrionali investono alcuni settori italiani generando ancora condizioni di tempo instabile con fenomeni pomeridiani più probabili a ridosso dei rilievi. Vediamo intanto la previsione del tempo sull'Italia per la giornata di martedì 7 giugno. Mattinata tutto sommato stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni eccetto che sulla Liguria, Piemonte e Alta Lombardia dove ci attendiamo a delle nubi convettive in rapido sviluppo e primi fenomeni associati in tarda mattinata. Nubi in estensione nel corso del pomeriggio su tutti i settori interni del centro e del sud peninsulare come anche sulla Liguria, Piemonte e su tutto l'arco alpino con piogge e possibili rovescio temporale associati. Tempo più stabile e piuttosto soleggiato invece sulle due isole maggiori e lungo le coste peninsulari. Attenuazione dei fenomeni poi in serata e nel corso della nottata anche se non si esclude la possibilità di qualche locale pioggia sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo stellato sui restanti settori. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle temperature le quali si prevedono in lieve aumento specie dei valori minimi e sulle regioni centro-settentrionari. Tutte le vie valori in linea con la media del periodo. Anche per oggi è tutto con le previsioni del tempo sull'Italia. Vi invito a consultare tutti i dettagli sul nostro sito o dal vostro cellulare con l'app gratuita MetoLife del centro meto italiano.